Un furto è un danno ingente ad un locale che si trova in pieno centro ad Arezzo. Siamo in Corso Italia, alla vigilia di Ferragosto. È successo dopo la mezzanotte, i ladri hanno forzato la porta d'ingresso, hanno cercato subito il denaro in cassa. Il bottino sarebbe piuttosto magro, ma i danni ci sono. I malviventi hanno infatti danneggiato il frigo all'interno del locale e buttato a terra le bevande. Alla vigilia di un giorno festivo, in cui l'attività era ovviamente aperta anche per la presenza dei tanti turisti, un gesto del genere, ci dicono i titolari, è più un danno morale che materiale. Che ti devo dire? Sto male e basta. Questo qui lo trovate, basta così. Non ti posso parlare perché sono emozionata. Sto male. Sul posto è intervenuta la squadra volanti della questura di Arezzo e successivamente i rilievi sono stati effettuati. Dalla scientifica verranno visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza dei locali attigui. Il forno è in gestione agli attuali titolari da otto anni. È un'attività florida e ben integrata con il resto dei locali che si trovano nella parte più alta di Corso Italia, all'ombra della Pieve di Santa Maria. Il forno si chiama appunto Antico Forno La Pieve. Questa è indubbiamente la parte della città più bella e frequentata dai turisti. Pochi passi e ci troviamo in Piazza Grande. Domani è il giorno di fè. Non fa male le persone che lavorano, questo. Perché così fanno male le persone che lavorano. Si alzano la mattina e vanno la sera. Venire a trovare questo non è bello.